L'Università Federico II ha una tradizione secolare nell'insegnamento della medicina, uno dei compiti fondamentali del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia è quello di preparare gli studenti a essere degli ottimi medici. La missione è quella di trasformare le conoscenze in competenze cliniche, applicando queste emozioni al letto del malato, andando anche a vedere come queste conoscenze vanno ad intrecciarsi con la medicina moderna ad alta tecnologia, proprio chirurgici, interventi per via endoscopica, fino all'immunoterapia per la cura delle malattie neoplastiche del sangue o degli organi solidi. Sono tutte quante conoscenze e tecnologie che sono patrimonio del nostro Dipartimento e rappresentano un po' lo stato dell'arte della medicina moderna.